Non vorrei darmi le arie con quello che sto per dire di essere un esperto di cose cinesi, ma proprio pochi giorni fa ho letto su un giornale di Hong Kong che in Cina cantano le canzoni di Domenico Modugno. Il giornale non diceva se le cantano in italiano o in cinese o quali canzoni cantano, ma sottolineava il fatto che in Cina amerebbero molto avere una visita di Domenico Modugno che è il nostro ospite per l'incontro di questa sera. Ora mi pare che questo piccolo fatto dia un'idea precisa della straordinaria popolarità di questo nostro cantautore. La parola a me pare bruttissima ma sono costretto ad usarla perché è la parola che mi pare sia in vigore oggi per definire questi autori cantanti ed è il principe dei cantautori. Così noto nel mondo, anzi a proposito della Cina, il giornale diceva anche che dai tempi di Greta Garbo nessuno occidentale aveva avuto tanta popolarità in Cina quale, quanto Domenico Modugno. E lo stesso si può dire per quasi tutti i continenti del mondo. In America ha fatto una tournée che ha avuto grande successo, non è necessario che io ricordi queste cose, è così ben conosciuto. Però posso ricordare che quando sono stato in Russia tutti ci domandavano, il collega Cavallina che vi presenterò fra poco e che qui stasera mi è buon testimone, ci domandavano, parlando dell'Italia, i giovani soprattutto ci domandavano di Gita Lollobrigida, informazioni e di Domenico Modugno. Non solo, ma ho saputo che c'è un giovane russo il quale si è entusiasmato per le canzoni di Modugno. E queste canzoni di Modugno lo hanno spinto ad imparare la lingua italiana. Tanto che dapprima questo fan, come si dice, questo ammiratore di Modugno scriveva, gli scriveva continuamente lettere e cartoline in russo e poi piano piano ha cominciato a scrivere, a mettere qualche parola in italiano e adesso pare che scriva delle letterine in italiano. quindi ecco, questo diciamo così per sottolineare, per mettere ancora in maggiore evidenza se ce ne fosse bisogno lo straordinario successo del nostro giovanissimo cantautore perché ha così giovane che si può dire la sua età, ha 34 anni ed è tanto famoso. Dunque Domenico Modugno fra poco sarà interrogato da Vincenzo Talarico, da Antonio Ghirelli e da Paolo Cavallina che appunto era in Russia con me quando ci domandavano notizie su Modugno. Però prima di procedere, di iniziare con l'interrogatorio, io vorrei invitare Modugno a dirci qualche cosa e vorrei invitarlo a dirci due cose, se crede. Prima di tutto di chiarire il mistero della sua origine perché io ogni tanto sento dire che è siciliano, ogni tanto sento dire che è pugliese o addirittura lucano e poi se ci vuole raccontare così qualche cosa dei suoi inizi, no? La sua... Beh io vorrei chiarire questo fatto del siciliano, del pugliese, lucano mai veramente, questa è la prima volta che l'ho sentito. Nemmeno calabrese. Comunque io sono pugliese, pugliese proprio di sette generazioni, mio nonno, mio bisnonno, sette generazioni pugliese. Però io vivo in un paese, cioè sono nato in un paese che si chiama Polignano a Mare dove parlano un dialetto incredibile, il barese che è un dialetto... E' simpatico però, insomma, per fare un esempio, no? Per dire le fave con la cicoria, dicono... Per dire, non so... Per esempio, se uno straniero vuole avere veramente l'impressione di parlare con un altro straniero, deve andare a Polignano e parlare con un polignanese. C'è una frase che dice, per esempio... Che ha capito lei? Nulla. Niente, sembra araba, no? Eppure invece è italiano, insomma è un dialetto italiano. Questo è il dialetto del paese dove sono nato. Poi sono andato a finire in un altro paese perché mio padre è capoguardia municipale. Ha vinto un concorso, è andato a San Pietro Pernotico dove parlano in un dialetto che è vicinissimo al siciliano. Proprio, infatti, le prime canzoni che ho cominciato a fare io le ho fatte in questo dialetto, poi le ho fatte sentire e ognuno che sentiva questa canzone diceva siciliano, era una canzone siciliana. No, pugliese, no, non è possibile. Il pugliese è cacchile, cacurca, è venuto caduto, il barese è il pugliese conosciuto, non è conosciuto con questo accento. Così poi sono andato, ho fatto delle audizioni alla radio e hanno detto, è simpatica queste canzoni siciliane. No, pugliese, no, guardi, sono siciliana, pugliese. Insomma, alla fine ho scoperto che siciliano era più importante del pugliese e così sono passato per siciliano. Ora lei mi scusi, questa è una domanda un po' imbarazzante, però nel suo mito c'è anche quella di un modugno, di un modugno diventato improvvisamente, di colpo si può dire, in un anno forse, diventato, non diciamo miliardario, ma quasi. Ora sarebbe interessante, sarebbe anzitutto sapere come questo danaro, lei come lo impiega, ma soprattutto che effetto le ha fatto. Perché lei è un ragazzo simpatico, semplice, naturale, questa è la chiave del suo successo. In che misura il danaro ha modificato o ha lasciato intatto questa sua personalità? Mi sembra interessante. Beh, io credo che col danaro che ho incominciato ad avere, la vita mia è cambiata solo con i rapporti con la gente, perché il mio problema è stato risolto quando io potevo mangiare, dormire, fumare, assicurato questo, ero già, stavo a posto, insomma, il giorno che ho avuto le mille lire da una parte, le 50 mila lire dall'altra, due pasti e sigarette, quindi stavo benissimo. Mentre quando sono arrivati i soldi è arrivato il problema dei contatti con gli altri, con le altre persone, cioè i soldi che, quando arrivano i soldi nella vita di un uomo, fanno più effetto agli altri che stanno fuori che a quello che ce ne ha veramente, perché a me non hanno mai fatto effetto, cioè il mio problema non era quello di avere un conto in banca, di avere più soldi di un altro, il mio problema era quello innanzitutto di risolvere, cioè di non avere la paura della fame, la paura dell'abitazione, questo è stato sempre il dramma, una volta risolto questo, i soldi o in più o in meno non danno, però mentre i rapporti con le altre persone sono cambiati, perché non so, degli amici, incontrare degli amici che ti parlano con un altro tono, proprio come, non ci si parla più. C'è la reverenza. No, 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 non è la reverenza, c'è il distacco voluto, lo snobbamento da parte degli altri. Ma questo sarà perché lei è diventato molto ricco o anche perché è diventato famoso? Io non lo so, io non mi rendo conto, la ricchezza non so che cosa vuol dire, la ricchezza, non credo, questo dipende, dipende credo che un uomo quando ha successo, la cerchi e si restringe, cioè è sempre più solo, questa credo che sia la malinconia di coloro che hanno, cioè c'è la gioia del successo, perché credo che ogni uomo nella vita cerchi il successo, in qualsiasi campo, nel giornalismo, negli affari, nell'arte, però la malinconia del successo è quello di restringersi il campo, cioè di restare sempre più solo. Volevo fare una domanda proprio nel campo suo, insomma, cioè come nasce una canzonetta? Volevo domandarle se anche lei adotta il sistema dei numeri, che generalmente si adotta, oppure se nasce prima la musica e poi lei ci fa aggiungere le parole, o le aggiunge lei stessa, oppure se sono le parole che le ispirano la musica? Io penso sempre che la nascita di una canzone è un fatto misterioso, proprio come, non so, è come la miniera, come il rabdomante che va a cercare l'acqua o un'altra cosa, il cercatore d'oro che va lì sicuro di trovare qualche cosa e poi non la trova. Insomma, la canzone per me, le note stanno nell'aria, cioè scoprire tre note che messe insieme sono un motivo di successo, un motivo che cantano tutti, è veramente una scoperta che io non so perché, se no a questo punto avrei fatta altre canzoni, molte di più, se uno avesse scoperto come si può fare una canzone. Cioè, la fare dei numeri non esiste, fare canzone con i numeri allora è meglio che facci il ragioniere. Io vorrei sapere una cosa, tu gradualmente sei passato da appunto queste canzoni folcloristiche, che poi eri tu che le facevi, che dava l'impressione magari che fossero vecchie canzoni, invece le rinnovava anche se aveva lo spunto. come sei passato poi attraverso Lazzarella, che è una poesia molto bella e la musica poi magnifica, a fare quelle cose come tipo l'uomo in fracche, attraverso quale evoluzione artistica e poi anche portarla al successo, si capisce. Veramente l'uomo in fracche è venuto prima di Lazzarella. Sì, è venuto prima, ma come tipo... Cioè, come passaggio, prima o dopo. E non lo so, io credo che la musica, la canzone soprattutto sia, anche se qualcuno non lo riconosce, la canzone... Cioè, si deve aggiornare come qualsiasi forma d'arte. Cioè, un pittore, un pittore che rimane... Ci dice, io dipingo così e non voglio sapere niente di quello che mi accade intorno, anche se meno valido di quello che fa lui. È un pittore che è destinato a... Cioè, se Picasso non si rinnovava con quella rivoluzione che ha fatto, Picasso rimaneva... Adesso non so, i paragoni sono un po' troppo esagerati. Non si preoccupa. Troppo esagerati. Comunque, cioè, io voglio esprimermi, no? È gestissimo. Cioè, dalle canzoni siciliane io ho sentito a un certo punto, non perché... Cioè, non è un fatto commerciale, ho sentito il bisogno di rinnovarmi in un altro senso, di fare una cosa di diverso, come lo sento in questo momento, per esempio. Sento che bisogna fare qualcosa di nuovo nella canzone perché c'è un periodo che stagna. C'è l'esempio di Dante che si è rinnovato sempre. Non esageriamo con Dante. Ciò dico, no, ma dico.